Il sud ha offerto sempre pochissimi corridori, Nibali è un meridionale, però è cresciuto in Toscana e poi al nord. Da queste parti c'è stato un corridore, Pino Faraca, che è venuto meno e mancato da pochissimo tempo. Il suo ricordo? È stato un dolore apprendere della morte di Pino Faraca perché è stato un ottimo corridore ed era una grande persona. Io lo incontravo naturalmente, io abito a Torino e lui qui in Calabria, quindi siamo un po' agli opposti dell'Italia. Eravamo purtroppo agli opposti dell'Italia, però lo incontravo in occasione di corso e del Giro d'Italia. Lui poi si dedicava, direi anche con successo, alla pittura perché era diventato anche un artista. E veramente, io me lo ricordo, Maglia Bianca alla prima partecipazione correva nella Onved, diretta da Dino Zandegu. E Maglia Bianca, miglior giovane, purtroppo un ragazzo sfortunato perché ha avuto un incidente, un incidente mi pare, se ricordo bene, che lo lasciò in coma per un certo periodo, si riprese e però non riuscì più ad avere i risultati che aveva avuto all'esordio tra i professionisti.